Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per lavori in direzione nord tra Firenze Scandicci e Calenzano. Rallentamenti per cantieri anche in carreggiato opposta tra BV1 variante di Valico e BV1 complanare Firenze Nord. Ci spostiamo in FIPD per lavori, 4 km di coda con tendenza all'aumento verso il capoluogo tra Empoli ed Empoli Est, in carreggiato opposta, rallentamenti ancora una volta per cantieri tra Montelupo ed Empoli Est. Degli stessi lavori ricordiamo che l'entrata di Empoli Est è chiusa verso Firenze fino al 22 novembre. Siamo a traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato in via Forlanini. Prima di salutarci per il traffico aereo il volo Firenze-Lisbona delle 19.15 al momento segnalato in partenza con mezz'ora di ritardo alle 19.45. Può versi in Toscana in più un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!